I tempi di attesa per le visite specialistiche all'AS di Piacenza rispettano gli standard di numerosi reparti, anche se restano 5 criticità, endocrinologia, neurologia, cardiologia, ginecologia e dermatologia. Lo ha rivelato l'assessore regionale alla sanità Carlo Lusenti rispondendo a un'interrogazione del consigliere regionale del PDL Andrea Pollastri. Rispetto all'interpellanza che ho depositato l'assessore mi ha risposto che vi sono ancora ad esempio in cardiologia, dermatologia e neurologia dei tempi di attesa un po' critici, salvo le urgenze naturalmente. Per questo ho chiesto all'assessorato alla sanità di intervenire per cercare di far rientrare anche questo tipo di visite specialistiche nello standard ottimale. Vi è poi sempre il tema su cui sto incalzando la giunta del 118 per Piacenza e poi vi sono da ridurre la mobilità passiva con gli oneri e i costi relativi alla sanità. Quindi continuo nella mia opera di controllo, di verifica dell'operato nella sanità emiliano-romagnola.